Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia regionale toscana promozione turistica. La proposta di delibera ha ricevuto il voto favorevole di PD e Italia Viva, contrari Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Il bilancio si chiude con un valore della produzione pari a 10.160.000 euro, in aumento del 15% rispetto all'anno precedente e in leggera diminuzione rispetto al preventivo 2022. I costi della produzione ammontano a 10.120.000 euro, con un aumento del 16% rispetto all'anno precedente. Oggi sul bilancio di Toscana Promozione abbiamo visto pregressi importanti da quando la regione toscana ha deciso di chiudere le aziende di proporzione turistica, le APT che capillarmente gestivano la promozione turistica sui nostri territori, si è accentrato un sistema che oggi svolge un'azione importante perché gestisce circa 10 milioni, dove però i pregressi si stanno ancora portando dietro, ci sono contenziosi, ci sono sentenze perse e questo limita molto anche l'azione rispetto a un direttore che dovrebbe avere anche più possibilità di agire sui programmi di promozione turistica dei nostri territori. In realtà oggi viene fatta una promozione turistica a livello toscana un po' a macchia d'olio, cioè non c'è più una corrispondenza, non c'è più una logicità rispetto a quello che è una programmazione turistica della regione toscana che non può essere subita solo perché abbiamo città d'arte, perché abbiamo bellezze naturali, storiche, culturali, artistiche, ma il turismo deve essere programmato e quindi dobbiamo tornare a gestire la promozione turistica in maniera capillare e sicuramente più adeguata rispetto a quello che stanno facendo adesso. Dal punto di vista tecnico e del bilancio, naturalmente tutto irregola nei confronti di quella che è l'attività e le spese, il finanziamento di questo soggetto pubblico che da anni lavora per lo sviluppo, la promozione del turismo, ma di cui ancora oggi non ci vengono dati con esattezza quelli che sono i parametri, gli indicatori che ci dicono se veramente i soldi investiti all'interno di questo contenitore importante della regione sono soldi che raggiungono l'obiettivo. La domanda famosa, se non ci fosse questo ente della regione toscana, il turismo in Toscana sarebbe il medesimo, sì o no? Si svilupperebbe nel medesimo modo o no? Non ci sono indicatori che ci permettano di rispondere a questa domanda e ci dispiace perché l'impegno degli operatori, di tutti coloro che lavorano, è grande, il turismo è un metacomparto profondamente intriso di peculiarità che sono della regione toscana ed è importante che il turismo sia portato avanti bene nel rispetto del territorio. Questo ente può aiutarci a farlo ma noi non abbiamo neanche misuratori per capire se possiamo aiutarlo a fare di meglio o meno e questo è l'unico motivo fondamentalmente del voto contrario al bilancio. Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale la proposta di deliberazione del bilancio di esercizio 2022 di Fondazione Sistema Toscana con 18 voti favorevoli di PD e Italia Viva e 11 voti contrari di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. L'esercizio 2022 si è chiuso registrando un utile pari a circa 200.000 euro in crescita del 26% rispetto al consuntivo 2021. Il valore della produzione è cresciuto passando da 10.052.000 euro del consuntivo 2021 a 10.293.000 euro del consuntivo 2022 mentre i costi della produzione evidenziano una crescita del 2%. Abbiamo approvato oggi il bilancio di esercizio 2022. È un bilancio che non ha rilievi particolari dai revisori, ha avuto alcune raccomandazioni ma dagli uffici del settore programmazione sono osservazioni e raccomandazioni in parte di maniera che invitano a rispettare il parametro dell'assunzione di nuove risorse del personale ma quest'anno la fondazione forse per la prima volta addirittura non ha sforato il limite di autorizzazione che la giunta gli aveva concesso con riguardo alle risorse umane e non lo ha fatto benché il valore della produzione sia aumentato del 2%, quindi un aumento contenuto dei costi inferiore al valore della produzione tant'è vero che il bilancio è inutile. Quindi abbiamo approvato a maggioranza. Le opposizioni rilevano al solito una sovrapposizione con i compiti di sviluppo toscana ma è bene ricordare che è solo una parte delle cose che Fondazione Sistema Toscana fa ad andare più che in sovrapposizione in convergenza, in sinergia con l'operato di sviluppo toscana. In realtà Fondazione Sistema Toscana ha un'operatività ad ampissimo raggio su tutti i settori della cultura, della diffusione soprattutto la Fil Commission, tutto il lavoro sul digitale con l'Internet Fest e solo in parte appunto di promozione, di valorizzazione dell'identità toscana, competenza che va diciamo incontro alle competenze di promozione del marchio toscana più tipiche di sviluppo toscana. Fondazione Sistema Toscana è una società in house della regione che tra le sue finalità ha quella di promuovere la digitalizzazione e diciamo l'offerta turistico-culturale della Toscana. Oltre a questo fa anche altre cose tra cui l'audiovisivo, promuovere l'audiovisivo, i film, diciamo che promuove il marchio toscana. Il revisore unico non ha trovato grandi problematiche nel bilancio però ha fatto delle raccomandazioni più che altro per quanto riguarda la questione del costo del personale. Noi della Lega abbiamo sempre sostenuto che il marchio toscana oltre ad essere promosso da Fondazione Sistema Toscana è anche una caratteristica di sviluppo toscana. Quindi secondo noi uno dei due è di troppo perché tutti e due diciamo che vanno avanti con i soldi pubblici e bisognerebbe trovare un modo di, non lo so in che modo, comunque rifletterci sopra per vedere di spendere meno e lavorare meglio. Per questo il nostro voto è stato contrario. Presentata a Palazzo del Pegaso la ventiduesima edizione del premio Alfredo Catarsini, un riconoscimento nato nel 2002 per preservare il ricordo dell'artista Via Reggino. L'edizione 2023 sarà dedicata per la prima volta ai portatori di disabilità visive. Il premio è aperto agli studenti maggiorenni dei licei artistici e degli istituti superiori della Toscana, che avranno libertà tecnica di interpretazione per creare un elaborato che reinterpreti un dipinto di Catarsini, rendendo l'opera pittorica accessibile alle persone con disabilità visive. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 5 novembre 2023, mentre gli studenti avranno tempo fino al 14 dicembre per completare e consegnare il loro lavoro. I vincitori saranno premiati con tre premi acquisto, del valore rispettivamente di 350, 250 e 150 euro. Quest'edizione speciale del premio offre agli studenti l'opportunità di esprimere la loro creatività e sensibilità artistica, contribuendo allo stesso tempo alla promozione dell'accessibilità e dell'inclusione per le persone con disabilità visive. Uno tra i premi più importantistici, più importanti della nostra regione. Ringrazio Elena Martinelli per il lavoro costante che porta avanti. Questo è un premio che racconta quanta bellezza, quanta arte, quanta cultura ci sia nella nostra regione. Quest'anno è ancora un premio più bello e più importante perché tiene insieme i nostri giovani, le nostre scuole e riuscirà attraverso il loro impegno a rendere più fruibile opere d'arte anche per i non vedenti, per gli ipovedenti. Voglio davvero ringraziare la Fondazione Catarsini per questa scelta. Si tiene insieme arte, si tiene insieme storia, si tiene insieme cultura, bellezza, si tiene insieme il nostro territorio e si sostiene davvero la possibilità per tutti di poter fruire e accedere a quanta bellezza c'è nelle nostre opere d'arte. Sì, è un'edizione importante, è una sfida. In questa lunga tradizione del premio Catarsini è che ha avuto delle edizioni particolari che per noi già a quel tempo ci sembravano un po' più nuove, più avveniristiche rispetto ad altri premi di pittura. Quest'anno invece proponiamo una sfida ai nostri studenti. La sfida è quella di preparare un elaborato ispirato su un'opera di Catarsini ma che sia esplorabile tattilmente, cioè che possa essere quindi letto da chi non vede. Allora, questo è un progetto pluriennale della Fondazione Catarsini che si chiama Cambiamo il punto di vista, che ha trovato quest'anno anche la parte applicativa lungo il cammino ai luoghi di Catarsini, che è un progetto che la Fondazione ha realizzato con il Touring Club Italiano. Durante il percorso ci siamo appunto chiesti come poter rendere questo cammino accessibile ma anche compreso, ben compreso, dalle persone che non vedono. Quindi abbiamo attraverso la collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Povedenti provveduto a fare le audioregistrazioni dei testi e voi sapete che descrivere un paesaggio, un'opera d'arte, un'immagine in generale a una persona che non vede non è una cosa semplice. Tant'è che ci siamo avvalsi della collaborazione dei Musei Nazionali della Toscana e del Museo Tattile Statale Omero. Ma anche le nostre sezioni dei Ciechi di Lucca, in questo caso la nostra sezione più vicina, ha collaborato moltissimo. Ne è scaturito un tesoro, un modello, possiamo dire, possiamo definire, di turismo accessibile per ciechi e i povedenti. Quindi il cieco attraverso dei QR code che sono nei totem lungo il percorso accede a delle audioregistrazioni adattate per lui e quindi può essere veramente partecipe del cammino insieme ai suoi compagni di viaggio. È molto significativa la scelta operata quest'anno per il premio dedicato ai giovani, il premio Catarsini che vede partecipare i maggiorenni delle scuole superiori con grande lungimiranza da parte della Presidenza della Fondazione che organizza questo tipo di manifestazioni. Credo che sia importante coinvolgere i giovani sui problemi della diversità appunto costituita da chi non vede o da chi vede poco, i non vedenti e i povedenti, attraverso l'arte. Da soprintendente al suo tempo dei Musei Fiorentini mi sono molto appassionata al tema di rendere percettibile attraverso il tatto opere che sono squisitamente visive, i quadri. E con gli altorilievi veramente ci sono risultati molto molto interessanti per i non vedenti e i povedenti ma anche per chi vede normalmente perché il tatto aggiunge una percezione quasi più fisica, più immediata dell'opera d'arte. Quindi sarà molto interessante vedere come la pittura di Catarsini che ha tanti soggetti di paesaggio, di figura, gli autoritratti che ho potuto ospitare in una mostra all'Accademia qualche anno fa, potrà essere resa attraverso il rilievo, attraverso la modellazione delle immagini stesse. Io collaboro con la Fondazione Catarsini da tempo ma anche a questo punto in maniera istituzionale perché la Direzione Regionale dei Musei riunisce appunto tutti i musei statali della Toscana, sono 46 e quindi siamo a disposizione della fondazione di questo premio in particolare con questo taglio così interessante, così importante per offrire agli studenti che vogliano partecipare al premio delle occasioni di scambio, di confronto e anche di verificare quello che abbiamo fatto in alcuni musei proprio per gli ipovedenti, per i non vedenti. Sono esperimenti, cose che sono sempre come dire fattibili di miglioramento, però certamente sono esperienze importanti per rendere accessibili i nostri musei non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista cognitivo e sensoriale. Siamo stati contattati dalla professoressa Martinelli e ci è subito sembrato un bellissimo progetto, un progetto entusiasmante dove potevamo mettere le nostre attività, le nostre capacità a mettere a disposizione per rendere accessibile questo percorso anche alle persone non vedenti e ipovedenti. Quindi siamo stati proprio felici di poterlo realizzare insieme e poter rendere la cultura ancora più accessibile di quello che ce ne può essere bisogno. Quindi è veramente una cosa entusiasmante, tant'è vero che abbiamo i nostri non vedenti delle nostre sezioni, specialmente la sezione di Lucca, si sono attivati per raccontare questo percorso di Catarsini e poi abbiamo le nostre sezioni territoriali che sono 11 su tutto il territorio della Toscana disponibili a collaborare con le varie scuole del territorio per questo premio Catarsini, questa borsa di studio Catarsini che verrà presentata oggi e verrà detto nei prossimi giorni. Quindi l'Unione Italiana Scechia e Provedente della Toscana e anche con il supporto della nostra sede centrale è disponibile e felice di migliorare l'accessibilità di questo percorso. Presentata nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, l'edizione 2023 del premio Innovazione Toscana Merigo Vespucci, promosso dal Consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana. Il premio, diviso in quattro sezioni, oltre alle tradizionali start-up innovative, ricerca, sviluppo e innovazione digitale sostenibile e brevetti, prevede la nuova sezione welfare e parità di genere e conferma il premio speciale giovani. Le imprese e le start-up innovative possono presentare le domande tramite il sito del Consiglio regionale fino al 10 novembre. Il miglior progetto di ogni sezione riceverà un premio da 15.000 euro, mentre 5.000 euro in ogni sezione andranno a un altro progetto giudicato meritevole dalla Commissione. Anche il premio speciale giovani sarà di 5.000 euro. Siamo alla sesta edizione di un premio per me tra i più importanti che come Consiglio regionale ogni anno finanziamo. Con questo premio noi vogliamo mandare un messaggio alle ragazze, ai ragazzi che studiano, che si impegnano sul nostro territorio, che vogliamo accompagnarli nella fase più difficile, quella in cui si vuole intraprendere qualcosa di diverso, si vuole creare una nuova impresa, si vuole costruire innovazione. Questo è il messaggio più forte. Tante aziende in questi anni abbiamo premiato, sono già 45. Quest'anno è un'edizione ancora più bella, più importante. Si è deciso di istituire un premio speciale per il welfare e la parità di genere. Ringrazio il comitato promotore, ringrazio il vero motore, Silvia Ramondetta, perché in questa idea ci sta anche un po' la nostra idea di Toscana. Abbiamo lanciato Casa Toscana San Francisco, 20 start-up parteciperanno con noi dal 4 all'8 dicembre per incontrare investitori che operano sul territorio. Insomma, investire su chi fa ricerca e vuole trasformare quella ricerca in valore per il territorio e sostenere l'imprenditoria femminile sta al centro della nostra azione politica e questo premio va esattamente in questa direzione. Il premio Innovazione Toscana quest'anno giunge alla sua sesta edizione e lo fa forte dei successi che ha riscosso negli anni precedenti. Dal 2017 abbiamo raccolto e portato alla luce 270 progetti, abbiamo premiato 45 tra imprese e start-up innovative, abbiamo coinvolto 22 giudici di elevato livello in commissioni giudicatrici che appunto hanno operato al nostro fianco. È un premio che quest'anno peraltro proietta la Toscana verso una direzione 5.0, quindi verso una direzione di futuro sostenibile, dove l'innovazione è certamente principalmente basata sulla digitalizzazione e l'applicazione delle nuove tecnologie digitali, ma si apre chiaramente al concetto della sostenibilità ambientale e soprattutto della sostenibilità sociale con l'inserimento di una nuova sezione di concorso che è dedicata alla parità di general welfare. Al premio si partecipa molto semplicemente, a partecipare quest'anno potranno essere peraltro solo le imprese e non anche altri soggetti perché Consiglio regionale e Confidusia Toscana hanno voluto puntare l'attenzione sul sostegno agli imprenditori. Si partecipa andando sul sito Premio Innovazione Toscana, scaricando il bando e la modulistica e partecipando al concorso che apre le proprie porte dal 16 ottobre alle ore 9 fino al 10 novembre prossimo. Si aspetta un mesetto, un mesetto e mezzo per la valutazione da parte appunto di una commissione giudicatrice formata da scienziati, accademici, universitari e industriali e a dicembre, entro il mese di dicembre ci saranno gli esiti e la valutazione quindi l'augurio è che anche quest'anno si aggiungano molte imprese, soprattutto imprese giovanili e anche femminili ma anche imprese strutturate di tutti i settori a partecipare a questa bella occasione che rappresenta la Toscana che può raggiungere un futuro sostenibile. Sono molto orgogliosa oggi di essere qua perché è ancora una volta una dimostrazione del saper lavorare bene insieme tra l'industria e il settore pubblico quindi questo premio rappresenta un'attività che portiamo avanti da anni c'è una novità quest'anno sulla parte della sostenibilità sociale e quindi della parità di genere quindi un'attività o comunque una filosofia nuova che deve essere trasmessa anche alle piccole e medie imprese che già qualcuna in maniera molto avveduta ha già iniziato ma è comunque una cultura che dobbiamo in qualche modo trasferire a tutte le piccole e medie imprese quindi che la donna abbia pari le stesse opportunità dell'uomo nonostante il merito sia sempre l'elemento fondamentale ma che abbia comunque le stesse possibilità di poter lavorare e sentirsi realizzata nel mondo del lavoro.